Ma che pesa eh! Ma che pesa il pietro! Severino! Severino! Tiro al davanti! Tiro al davanti! Ecco così! E non puoi scappare qui! Dai! Hoi! 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 Via! Via! Stai avventando le mani! Va! Oh! Adesso in serio possiamo andare! Prendegli la sua! Andiamo! Va! Prova! Stefano come l'altra volta! Finiti tutti ci sono rimasto spampi! Gli ho detto via! Andiamo! 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 Ragazzi! Scusa! Portamela su dentro! Vengo dentro! Dai Sergio! Guardaglia su! Così qua! Dai! Lascialo stare! Sì! Sì! Questa ferma! Questa ferma! Viene! Viene dirlo! Viene dirlo! Viene dirlo! 两,两, due! Pieni a mano ne! Sì! Ah! Tiro! 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 Oh, ti imparare con la tempura, no?